Playoff americani spesso e volentieri danno spettacolo e i playoff NHL 2024 non fanno eccezione. In un primo turno che si è appena concluso per quanto riguarda l'Ovest e invece è appena iniziato il secondo turno per quanto riguarda l'Est, ha dedicato evidentemente spettacolo, partite molto tirate, giocate sensazionali e qualche dominio qui e lì. Questo è un video che va a proseguire quello che è stato fatto due settimane fa all'inizio di questi playoff 2024, un video fatto in collaborazione con Andrea di MLB Italia, con cui peraltro scrivo sulla nuova pagina Instagram di Face of Italia. Questo invece è un contenuto in solitaria che di fatto fa il paio con il format del baseball, quindi a ogni fine turno arriva un recap a questo giro in solitaria, ma appunto partiamo dalla fine. E la fine vuol dire semifinali di conference. Dalla parte dell'Est, Florida Panthers, Boston Bruins, New York Rangers e Carolina Hurricanes sono qualificate per questo tipo di competizione. Dall'altra parte a Ovest, Dallas Stars, Colorado Avalanche, Vancouver Canucks ed Edmonton Oilers, dunque derby canadese nella parte bassa del taberno della Western Conference. A Ovest devono ancora giocare, le prime partite si svolgeranno nella notte tra oggi e domani, mentre appunto a Est si è già giocata la prima pagina delle semifinali di conference, con Boston in vantaggio su Florida e New York in vantaggio su Carolina. Ma per capire come sono arrivate queste formazioni a questo punto dobbiamo partire dall'inizio. Andremo a vedere rapidamente cos'è successo nelle varie serie, che ovviamente ricordo si giocano almeno delle sette già dal primo turno, per focalizzarci anche sui punti salienti delle serie più interessanti. E la prima che andiamo ad analizzare, partiamo dall'alto verso il basso a Est, è quella tra Florida e Tampa Bay. Un derby che poteva evidentemente essere aperto, quantomeno nei pronostici, visto che Tampa Bay è abituata ad arrivare ai playoff, ci è arrivata in questo caso tramite wildcard, ma ovviamente è stata di fronte una grandissima squadra, ovvero Florida che ha fatto un gran finale della regular season e in questo primo turno dei playoff ha evidentemente continuato a giocare con lo stesso copione. Quindi praticamente outplayando gli avversari, soprattutto dopo un grande episodio di cui parleremo tra un po', però comunque Florida ha trovato Matthew Kachak che nei playoff si è svegliato, ha trovato il core della regular season che li ha portati evidentemente nelle primissime posizioni della propria division. Fatto sta che comunque la serie è un dominio per ovviamente Florida, 4-1 nel risultato finale contro i Tampa Bay Rays, o meglio Tampa Bay Lightning ovviamente, Tampa Bay Rays è la squadra di baseball rimanendo nell'hockey, però c'è una grande giocata evidentemente che va analizzata e non è una giocata offensiva, bensì una giocata difensiva. Siamo a gara 2, Florida in vantaggio 1-0, siamo evidentemente in un punteggio di parità, due pari in una partita giocata a Sunrise, quindi stedio di casa dei Florida Panthers. L'azione è questa, una ripartenza di Tampa Bay, vede un 1-1, il disco finisce dietro alla porta di Bobrovski, rimesso in mezzo, conclusione parata in questo modo, da Sergei Bobrovski a 5 minuti e 50 dal termine del secondo periodo, una parata senza senso, fatta senza guardare di schiena, coprendo semplicemente la porta con un disperato tentativo, eppure questa tentativa alla disperata rende giustizia a Bobrovski e nega il 3-2 del vantaggio dei Tampa Bay Lightning. Guardate questo frame, parata sensazionale di Bobrovski che nega un gol praticamente già fatto all'attaccante dei Tampa Bay Lightning. Questo episodio di fatto andrà a essere il pivotal di questa partita e della serie in generale, perché appunto da una possibile occasione di vantaggio a Tampa Bay si passa di fatto a un gol negato e poi al successivo vantaggio di Florida che vincerà quella partita, una serie che invece finirà 4-1 con Florida qualificata al secondo round. Qualificata al secondo round anche Boston, però questa serie era decisamente di più alto livello rispetto a Florida-Tampa Bay. Boston infatti affrontava i Toronto Maple Leafs che hanno ancora una volta la sfortuna di uscire al primo turno dei play-off, è la settima uscita al primo turno degli ultimi otto anni per la squadra del capo canoniere per numero di gol della regular season, ovvero Austin Matthews. Toronto continua a non vincere una Stanley Cup da tempo immemore, parliamo di una squadra gloriosa, una dell'original six di questo gioco, eppure le cose si erano messe anche bene per quanto riguarda i Toronto Maple Leafs, perché hanno sotto 3-2 alla fine della partita numero 5 e vanno poi a pareggiare evidentemente la serie in gara 6 e poi si gioca tutto in gara 7. Uno dei due episodi fondamentali lo vediamo qui ed è il gol del 2-0 di gara 6. Qui vediamo l'azione di ripartenza da parte dei Boston Bruins che provano evidentemente un'azione che però viene fermata da difesa di Toronto. Toronto che poi alla fine riparte, conquista il disco nel proprio terzo difensivo e alla fine arriva l'azione che porta William Milano davanti al portiere. Conclusione e gol a battere Jeremy Swayman. 2-0 Toronto per l'esplosione di gioia della squadra di casa, di tutti i tifosi che dunque impattano la serie per tre pari, quantomeno per un frangente un attimo importante. Qui rivediamo l'azione che permette a William Nylander di arrivare in uno contro uno contro Jeremy Swayman e di fatto abbatterlo. Azione fondamentale, gol del tre pari. Nella serie ovviamente 2-0 il risultato per quanto riguarda Toronto in questo frangente, 2-1 il risultato finale, ma appunto c'è una gara 7 da giocare. La gara 7 si gioca poi in uno stadio non banale, ovvero il TD Garden di Boston Massachusetts e questo è l'episodio che di fatto chiude il discorso. Una gara 7 tiratissima che arriva al supplementare. Ricordo che al supplementare c'è la regola del golden goal, della sudden death, quindi chi segna evidentemente si aggiudica la partita e elimina in questo caso la squadra che lo subisce. Il gol arriva in questo momento ed è di David Pasternak, uno dei giocatori più rappresentativi di questo sport. Non solo dei Boston Bruins mette il sigillo sulla partita. I Boston Bruins vincono 2-1 nel Duor Die Game e si qualificano alle semifinali di conference, dove appunto hanno già vinto una partita contro i Florida Panthers, ma nell'overtime 5 contro 5 arriva il guizzo del campione. David Pasternak mette questo disco a battere il portiere avversario e dunque conclude qui il discorso. Boston riesce a uscire fuori da una serie complicatissima, ma sapevamo che Boston-Toronto come minimo poteva finire alla settima e gara 7 è stata. Grandissimo gol di Pasternak. Boston affronterà, o meglio sta già affrontando, i Florida Panthers in un'altra serie di grandissimo livello. Questa era la parte alta del tabellone della Eastern Conference. Andiamo un po' più in basso e andiamo nella parte bassa della Eastern Conference, dove invece abbiamo avuto due squadre che hanno outplayato completamente, un po' come Florida ha fatto con Tampa Bay gli avversari. Da una parte un pronosticatissimo 4-0 arriva dai New York Rangers, che spazzano via quello che resta dei Washington Capitals, che comunque secondo me avevano già fatto un'impresa a essersi qualificati in questo secondo turno dei play-off, dall'altra parte un po' più in basso. Carolina concede soltanto una partita ai New York Islanders. Diamo che appunto in questo sport, in questo momento storico, la squadra più forte delle due di New York è ovviamente i Rangers, che sono secondo me predictati per arrivare fino in fondo, non dico in Stanley Cup, ma quantomeno in finale di conference. Dall'altra parte però c'è una Carolina che ha avuto ragione evidentemente dei New York Islanders, nonostante appunto la formazione dei Brooklyn abbia ovviamente cercato di tenerla viva in un certo modo, per quanto riguarda gara 4, dove in realtà il punteggio era già compromesso perché Carolina era sopra o meglio 3-0. Va detto però che comunque Carolina è pronosticata avanti, un po' come i New York Rangers e secondo me entrambe le serie delle semifiche di conference a est possono finire in 6, solo in 7 partite. Andiamo però dall'altra parte, in questo momento però facciamo un percorso inverso, passiamo dalla parte bassa per poi arrivare ovviamente in alto, dove c'è una grande serie di cui dobbiamo parlare, che è Dallas-Las Vegas, ma parliamo però di un'altra squadra predictata per andare molto avanti, ovvero gli Edmonton Oilers, squadra di Conor McDavid, i giocatori più forti senza ma di questa era moderna del hockey su ghiaccio, Edmonton passeggia sui Los Angeles Kings 4-1, al netto che per tante gare dominate che abbiamo visto da parte di McDavid e compagni c'è una gara molto molto tirata ed è gara 3, una gara 3 pivotal, mai come in questo caso perché il punteggio dopo gara 2 è 1-1 e ovviamente si gioca in casa dei Los Angeles Kings. I Kings hanno un grande mole di gioco, riescono a imprimere evidentemente tanta mole, ma non riescono evidentemente a superare la difesa degli Edmonton Oilers. Se in una partita dominata nei tiri, in questo momento nel totale saranno 33-13, arriva il gol per gli Edmonton Oilers in trasferta, peraltro l'unico gol della partita. In una situazione peraltro di power play, quindi in 5 contro 4, in superiore della numerica, arriva la conclusione e il gol da parte degli Edmonton Oilers che arrivano a segnare il gol dell'1-0 al nono tiro in porta. In questo momento, alla fine tiri, saranno soltanto 13 contro i 33 dei Los Angeles Kings, arriva una sassata di fatto dallo slot o poco più in là per arrivare a segnare il gol dell'1-0. Vedere una partita che finisce 1-0 nell'occhio è veramente tanto tanto raro, però comunque Edmonton si dimostra una squadra che non solo è capace di dominare quando può, ma riesce a fare gruppo, riesce a fare squadra e a portarsi a casa una partita complicata. Da qui in poi, in realtà, Edmonton avrà la vita veramente, veramente facile e arriverà a qualificarsi alle semifinali di conference, battendo i Los Angeles Kings 4-1. Un po' più tirati in questa serie tra Vancouver e Nashville, al netto che sulla carta i Canucks erano favoriti, in quanto Nashville era arrivata tramite white card, mentre Vancouver è arrivata come vincitrice di division. 4-2 per quanto riguarda i canadesi, che stanno facendo una grandissima stagione, una ottima regular season, corridovata ad un grandissimo primo turno di playoff. Abbiamo un Elias Patterson, in stato di grazia, che si è svegliato anche in questi playoff. È tornato a Thatcher Demko per quanto riguarda i Vancouver Canucks. Di conseguenza, attenzione alla difesa, che dovrà essere un fattore fondamentale contro il miglior attacco di queste squadre canadesi, ovvero quello di Edmonton. Vancouver potrebbe essere favorita per quanto riguarda il collettivo, però Edmonton ha un McDavid in stato di grazia, che riesce a fare tante cose, ancora una volta, nel mondo dell'hockey. Sarà una serie veramente tanto divertente, ma dobbiamo parlare proprio di quello che è successo nella parte alta del tabellone. E parliamo di Colorado e Dallas, qualificate alle semifinali di Conference a Est. Colorado ha una grande serie, in realtà, contro Winnipeg. Una serie che poteva, in realtà, finire, secondo me, un pochino più avanti, con un punteggio più generoso per Winnipeg. 4-1, secondo me, è ingeneroso per metà della serie. Poi, in realtà, da gara 4 in avanti, Colorado dominerà e outplayerà i Winnipeg Jets. Va detto, però, che l'episodio che fa capire come Colorado sia quest'anno, ancora una volta, sul pezzo, è un gol che arriva in gara 4. Siamo alla buona arena di Denver-Colorado. Una partita molto tirata, che vede Winnipeg cercare la rimonta per il 2-1, ma, a un certo punto, nei Colorado si sveglia il giocatore, quello bravo, col numero 8. Vale a dire, Cael McCarr, un McCarr che parte in un'azione solitaria dal proprio terzo difensivo. Salta 1, 2, 3 giocatori di Winnipeg, li manda letteralmente al baretto. La conclusione è il gol, da parte di Cael McCarr, che potrebbe già essere considerato il più bello di questi play-off. Colorado, con quest'azione, va sul 3-1 e mette, evidentemente, la firma e l'ipoteca sulla serie. McCarr fa un gol straordinario, partendo dalla propria porta, saltando letteralmente tutta Winnipeg, e arrivando alla conclusione vincente a battere il portiere avversario. Grandissima azione di McCarr, da qui in poi. Colorado non si volterà più indietro e arriverà a battere molto nettamente. E Winnipeg Jazz, arrivando a una vittoria facile per 4-1. Tutto fuorché facile, invece, è stata l'ultima serie di cui parliamo. Un'altra serie che io avevo pronosticato personalmente in sette partite, perché da una parte avevamo i Dallas Stars, miglior squadra ovest, dall'altra i Vegas Golden Knights, campioni in carica. Ebbene, i campioni in carica non si riconfermeranno, perché dopo una serie finita, come giusto che fosse, in sette partite arriva la definitiva eliminazione da parte dei Vegas Golden Knights. In una partita è una serie molto strana, in verità, perché nelle prime quattro partite il fattore campo non esiste. Vegas vince due partite in trasferta, esattamente come Dallas. Si arriva a gara 5, in un momento pivotal, dove anche qui abbiamo partite tanto, tanto equilibrate. Questo è l'episodio che arriverà a decidere, evidentemente. Questa è gara 7, ma parliamo ovviamente di gara 5. Una gara 5 che arriva in questo momento. Siamo in un power play. Per quanto riguarda i Dallas Stars, quindi sezioni anche una volta di 5 contro 4, arriva un'azione tragnata da Jason Robertson, che scarica per Mikko Heiskanen, che va ancora dalla Superstar dei Dallas Stars, che mette questo disco in mezzo, e in qualche modo il disco passa, e arriva il gol del 3-2 della Superstar dei Dallas Stars. Il go to guy, quello che deve evidentemente rispondere presente quando i giochi cominciano a farsi seri per davvero, lo fa e arriva a segnare il gol di fondamentale importanza nella serie che appunto porterà Dallas al 3-2. Robertson, che finora è stato un non-fattore in questi play-off, riesce evidentemente a incidere, ma Vegas ovviamente non bisogna mai darla per morta. Questa è una partita ancora più fondamentale. Siamo in casa dei Golden Knights alla T-Mobile Arena. Siamo in un'altra partita molto dura, molto tosta. L'equilibrio regna sovrano e Vegas deve ovviamente arrivare a segnare e riesce a farlo con un gol di stordente bellezza perché vediamo un'azione iniziata da Hanafin che riesce a mettere questo disco all'incrosso dei pali a battere Jake Höttinger e Noah Hanafin mette i Vegas Golden Knights sul tabellone nel terzo periodo dopo che per tutta la partita la paura, l'equilibrio e il regnato sovrano, uno 0-0, durato 50 minuti sostanzialmente, viene spezzata da questa perla di Noah Hanafin. appunto mette i Golden Knights in vantaggio 1-0 evidentemente, però tutto questo non basterà perché anche in gara 7 la paura, la tensione di uscire regnerà sovrana. Alla fine avremo una gara 7, come accennavamo prima, veramente tanto equilibrata dove ogni episodio può fare la differenza e questo episodio decisivo arriva a pochi secondi dall'inizio del terzo periodo. Un'azione di fatto in mischia viene poi smistata in questo modo. alla fine gli Stars arrivano a gestire il pallone o meglio il disco negli angoli per Radek Faxa che in backhand riesce a battere Logan Thompson. Arriva il gol da parte di Radek Faxa, il giocatore cieco, mette il disco all'incrocio dei pali a battere il portiere avversario. Faxa peraltro ha una gran bella storia perché non aveva mai giocato in questi playoff, in questa zona causa infortunio e mette il gol che alla fine risulterà decisivo. Qui vediamo l'azione appunto di Faxa che con i movimenti corretti riesce poi a battere in realtà Aiden Hill e non Logan Thompson come ho detto poc'anzi, ma il tiro di backhand all'incrocio dei pali è un gol veramente tanto bello quanto decisivo. Faxa trova il gol del 2-1, punteggio definitivo e dunque per usare un termine calcistico triplice fischio a Dallas e gli Stars sono qualificati alle semifinali di Conference. Semifinali di Conference dunque saranno da una parte a Ovest, Dallas, Colorado, Vancouver, Edmonton e a Est, Florida, Boston, New York, Carolina. Sono serie decisamente di alto livello tutte potenzialmente concludibili in 6-7 partite. Florida, Boston sinceramente la vedo minimo in 6 partite bisognerà vedere come Florida affronterà le partite al TD Garden che saranno secondo me quelle fondamentali per quanto riguarda ovviamente di questa serie abbiamo due collettivi molto importanti Florida ha un gran bel attacco Boston è una squadra invece molto abituata al contesto di questi playoff e ha una coppia di portieri incredibile perché Linus Holmark e Jeremy Swayman hanno praticamente le stesse statistiche di conseguenza è ipotizzabile vedere delle partite tanto equilibrate e decise ovviamente dagli episodi è più offensiva e bella da vedere secondo me la serie New York Rangers contro Carolina perché sono due attacchi senza dubbio di altissimo livello abbiamo avuto nella gara ovviamente precedente a questa un Mika Zibanejad per i Rangers che si è svegliato finalmente e riesce evidentemente a unirsi a una squadra che già di per sé è forte secondo me i Rangers a onor del vero possono arrivare fino in fondo nella Stanley Cup e sono di certo una delle favorite a Est Carolina però non parte battuta è vero che ha avuto come New York un turno facile quindi un po' per entrambe le squadre sarà un primo turno vero primo turno vero che si è già giocato per appunto le squadre a Est Boston è in vantaggio su Florida mentre New York è in vantaggio su Carolina vincendo peraltro nettamente 5 a 1 dall'altra parte Colorado dovrà affrontare Dallas che viene dalla maratona contro Las Vegas Dallas si conferma meglio squadra Ovest ma trova una Colorado che è veramente tanto ispirata Colorado ha finito furtissimo la serie contro Winnipeg e dovrà assolutamente continuare su questo ritmo Colorado secondo me ha la chance di andare fino in fondo anche da questa parte e confermarsi quella macchina da playoff che è sempre stata negli ultimi anni abbiamo visto che Kane McCarr è un grandissimo giocatore ha già fatto quello che voleva nel primo turno si sono svegliati anche i giocatori più forti degli Avanas quindi McKinnon Rantanen e compagnia bella sotto però c'è un grandissimo derby canadese sicuramente avremo una canadese in finale di conference sarà Edmonton di Connor McDavid e Leon Drysaitl o sarà la Vancouver di Thatcher Demko e Elias Patterson sarà una serie tanto equilibrata spero che entrambe finiscano alla settima secondo me per come è strutturata diciamo la situazione Colorado ha chance di battere Dallas secondo me in sei partite Vancouver secondo me è leggermente favorita rispetto a Edmonton vedo però qui una settima partita perché anche qui la tensione sarà veramente un gran fattore i primi risponsi in realtà saranno già stanotte perché a ovest nella notte tra oggi e domani ci saranno le serie tra Dallas Colorado e Vancouver Edmonton ricordo che ogni serie di playoff verrà trattata sulla pagina Instagram Face of Italia per il quale questo video è una stupenda appendice fate vedere cosa pensate dunque di questo primo turno della NHL questi playoff se vi hanno soddisfatto per ora oppure noi come vedete la vostra squadra del cuore io francamente sono esterno perché tifo i Pitbull Bengals quindi posso parlare abbastanza liberamente di questi meravigliosi playoff 2024 che hanno già regalato veramente delle perle e delle partite quasi indimenticabili ci vediamo al recap per presentare le finali di conference appena finite le semifinali di Eastern e Western Conference il saluto da parte di Matthew Thorgaard ci vediamo a un prossimo video a un prossimo video